Qua Pendolino, pendolino Dove è mai andato a finire l'oggettino? Pendolino, pendolino Dove è mai andato a finire l'oggettino? Bima, cosa soffi? Questo tra un po' non si muove più Ui, si vede che manca la corrente Ma se dobbiamo aspettare che torna la corrente, buonasera Piccola ignara, muoio parlo della corrente magnetica Ma è la corrente magnetica che fa oscillare il pendolino Nella direzione dell'oggetto smarito Ma senta, lei ce l'ha il pallone Ma quale pallone? Come quale? Quello di vetro Quello che ci si guarda dentro si vede se lui ti pensa oppure ti fa le corna La sfera di cristallo, vero? Beh Ricordati bene, per tua norma e relativa regola Che io non sono una sonambula Io sono una professionista Scusi Sì, zetta Il pendolino si muove È la corrente magnetica? No, è una corrente d'aria La porta E voi chi siete? Ben, a voi chi vi ha detto di entrare? Siamo amiche sue e fra noi non ci sono segreti Siamo venute a vedere se avete trovato la trousse Possono rimanere? Ben, se volete restare, restate Ma mi raccomando di non disturbare Cinina Chiudi bene gli occhi e pensi intensamente all'oggetto Pendolino, pendolino Dove mai è andato a finire l'oggettino? Pendolino, pendolino Dove mai è andato a finire l'oggettino? A veneri Amatta Ma che è diretta le maghe? Ma sei proprio scema Ma di bene come parla, scia Io sono una veggente diplomata Sì, e questa è una tonta patentata Ma io credevo che fosse una cosa seria E che è? Il pendolino Ma io volevo sapere dove che era la trousse E vuoi che te lo dica quella là? E se è anche peccato Ma savi io che le sei proibie dalla religione, ste robe Ignoranti Siete delle ignoranti Ecco E mi dispiace E' preso a scherzare sul mio pendolino Che è una cosa scientifica Ignoranti Ignorante sarà lei, va bene? E tutta la razza sua A Monica Tu tappate le orecchie Adesso glielo dico io Che cosa ci deve fare con quel pendolino E tu A madama de Debbe Aprile bene le orecchie